Se non ci fosse la domanda non ci sarebbe l'offerta, è vero che spesso è l'offerta che chiama la domanda, però dal punto di vista del consumatore, il consumatore è felice, è un consumatore che ha accesso a una offerta il più variegata possibile e quindi sceglie. Considerare il consumatore un citrullo indifeso rispetto ai claim pubblicitari è anche un modo secondo me un po' retro di guardare il consumatore, il consumatore di oggi è un consumatore attivo, è un incubo per i produttori perché è un consumatore che ha dei capricci che non subisce passivamente.